amiche e amici sono emozionato di presentarvi marco drums spa scavi quindi drums spa scavi senza i punti vabbè farò il mega dlc appena uscito del stadio di calcio amici e che cominciamo il nostro mega stadio di calcio sono emozionato adesso che ci sono un sacco di partite in televisione dal vivo da dare a vedere noi cominciamo invece la costruzione dello stadio di calcio ponte pedonale alto e accettiamo l'appalto amici e amiche siamo in europa siamo su construction simulator siamo sul canale di marco drums games il vostro canale e qua abbiamo lo stadio andiamo a vederlo insieme e poi seguiranno video del lavoro di preparazione allo stadio prima la vedete facciamo il ponte pedonale tante tante altre cose andiamo a accettare l'appalto con lui e ci vediamo mi raccomando iscrivetevi al canale di marco drums games qua su youtube lascio il link in descrizione per i social grazie mille amici e amiche del vostro supporto dai che arriviamo mille entro la fine dell'anno parliamo con l'architetto allora a fine video io vi saluto ciao ciao c'è un saluto non mi ci ciavo sono sami il tipo architetto io la principali della stagione non mi credo che stiamo construendo un stadio per Friedenberg ma mia padre e io siamo grandi è stata una pregherla convoscire il presidente club una tante cricket che sugiate entro di tutto il nostro plan è ancora nonpitante che puoi av factory ne vado andiamo a provare il vero e cominciamo con la piazza del pedestale dopo tutto i locali dovrebbero avere un modo sicuro per arrivare al stadio se avete alcune questione sui plan o non canto leggere la mia mano lasciatemi sapere abbiamo chiuso una super strada autostrada per poter fare il nostro mega stadio da calcio ragazzi incredibile secondo me poi dove andiamo a costruirlo non lo so lo scopriremo solo giocando marco drums games vi saluta alla prossima campo aspetta perché qui il lavoro ponte allora facciamo così se vi progressi dal palco eccolo qua che è meglio ponte pedonale del nostro stadio in Europa con straccio simulato marco drums iscrivetevi al canale ciao 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 ciao